Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel quindicesimo episodio della nostra Master League con il Livorno su PS4 Signori, allora, situazione generale, non me la ricordo nemmeno io Allora, che cazzo di partito dobbiamo andare? Allora, abbiamo una partita di campionato, ok In realtà abbiamo le ultime 5 partite di campionato E poi abbiamo il ritorno di coppa con eventualmente la finale Va bene, va bene Noi siamo a buon punto perché gli stipendi li possiamo pagare E questa già è una cosa importante La formazione, scendiamo in campo sempre con gli stessi signori Scendiamo sempre in campo con gli stessi Sì, direi di sì, direi di sì Mi avete considerato di cambiare modulo, di cambiare situazioni Però per il momento manteniamo questo signore Non voglio stravolgere troppo le situazioni Scendiamo in campo contro il Nürnberg Squadra con la quale spero di riuscire a fare 3 punti E portarci a casa quantomeno un risultato importante per la classifica Detto questo signori prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i studenti e per il supporto Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e a darmi sempre dei suggerimenti Che io comunque leggo i commenti anche se magari registro gli episodi in rapida successione Però poi con calma comunque me li leggo i vari commenti e le varie situazioni Vediamo un attimino la classifica Siamo secondi Ok, con due punti di vantaggio sul REN Quindi fino a questo momento significa promozione Il Sivilla se ne è andato Ma noi non ci creiamo problemi, signori Dobbiamo guardare il nostro E il nostro deve essere l'obiettivo della promozione Abbiamo una squadra di scarponi Eh, questo è partito Ok, dritto per dritto questo se ne sta andando È vera verità, signori Mi sembra un po' esagerato farla andare così deciso verso la porta Mi sembra un attimino esagerato Non so voi ma a me sembra un pochino esagerato Rossetti, 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 Rossetti Grandissimo Appendizione, palla per Utaka Utaka, Utaka per Rossetti Rossetti, Rossetti, Rossetti Decide di accelerare Rossetti Per via centrali Rossetti, Rossetti Stava per sprigionare il suo destro infallibile Sto scherzando E invece si è fatto recuperare Ma porca No, ti sei Da dove è passato? Da dove cazzarola è passato? Questo che sta arrivando al cross Attenzione Cortesemente Pallone Siamo sotto 1-0, signori Non chiedetemi come, quando e perché Ma siamo sotto 1-0 Porca miseria Porca Dai, però che cazzarola Non teniamo fisicamente, eh? Rossetti Dai Ti sto facendo crescere Mi stai facendo schifo in una maniera terribile Lo faccio io per io Lo faccio per farti crescere Oh, un orgasmo Oh, signori Porca miseria Non riusciamo più a muoverci bene? Cos'è? Abbiamo fatto tardi ieri sera E ci siamo un attimino Dimenticati che oggi c'era la partita? Ma come cazzo? Non le stoppate sti palloni, signori Dai Ci stiamo giocando con il Nurberg Nurberg E stiamo... Una sconfitta potrebbe significare perdita del secondo posto Io non so se la cosa vi è chiara, signori Volete farvi un'altra stagione in Serie B? Utaka Comprato per la sua velocità Utaka 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 Riesce ad andarsene Ne fa fuori uno Non riesce a fare fuori l'altro Chi c'è lì? Chi cazzarola c'è lì? Non c'è nessuno Non c'è nessuno lì Ma porca Ma porca miseria Ma porca Eh dai Niente Niente Per forza Niente Non... No Ah, meno male Fuori gioco Allora, facciamo una cosa, signori Un cambio tattico Cambio tattico Cambio di formazione Allora, non ci siamo Non riusciamo Modifica Giochiamo con un 4-4-2 Così Proviamo il 4-4-2 normale In cui abbiamo Del Tongo lì Ceramitaro Gambardoni Unorgas Utaka Rossetti Proviamo così, signori Proviamo uno schema Del Tongo Unorgas Unorgas Cerca Ciaramitaro Ciaramitaro Perde il pallone Bravo Ciaramitaro Bravo, bravo, bravo Così Continua così, zio Hai perso il tuo Il tuo appeal Delle prime partite In cui Riesci a passare È mezz'ora che gli sto dicendo Passa il pallone E dormono Unorgas Gas, gas Gas, gas Grande, gas, gas Grande, gas, gas Che cerca Rossetti Che cerca Utaka, Utaka, Utaka Il tiro Il pallone sulla traversa Il pallone sulla traversa Non ci posso credere Il pallone sulla traversa È brutto, signori Il pallone sulla traversa È proprio brutto Riesce a levare Lo stavolato? No Noi non siamo riusciti A levare Lo stavolato Il pallone sulla traversa Non ci posso credere Abbiamo sfiorato il pareggio Abbiamo sfiorato il pareggio Ma non l'abbiamo trovato E se non segniamo Dico Non riusciamo A ottenere Quello che vogliamo C'è qualcuno qui sulla fascia Bravo, Chara Bravo, Chara Bravo, Chara Con calma, con calma Chara mi dà Bravo per Del Tongo Facciamo gioco di squadra Del Tongo per Utaka Utaka Cerca uno Orgas Gas, gas Gas, gas Mannaggia a te E a chi non te lo dice pure Bello che io volevo mettere pure Gli imprevisti in questa serie Ma meno male che non li ho messi Utaka 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 Comprato per la sua velocità Utaka Grandissimo Utaka Rientra Rientra Utaka Rientra Utaka Rientra Utaka Inquadra la porta Il tiro di Utaka Una merdata proprio Una Una pezza bagnata di Utaka Pagato Fiori di soldi Questo è il risultato Bravo Utaka Bravo Utaka Mamma mia Se gli dava il rigore Mamma mia Se gli dava il rigore Utaka 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 Torna Torna Grandissimo Utaka Ricupera un gran pallone Se ne va lui Se ne va Utaka Che dovrebbe essere velocissima Invece è una pippa al sugo Terribile Utaka Guarda Rossetti Rossetti Inutile come poche cose al mondo Ma dagli il vantaggio Ma dai Che la palla era loro Ma stai zitto Albitro La palla era loro Gli fischia pure il fallo Porca miseria Ci posso dire Stiamo perdendo contro il Nürnberg Chi cazzarola sono questi del Nürnberg Una squadra col quale stiamo perdendo Questo è sicuro Un orgasmo Altro giocatore comprato Per dare un cambio di pass a questa squadra E non ci stiamo riuscendo Attenzione Utaka 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 Mantiene fisicamente Utaka Non ci credo Non ci credo Fallo mio Ma dove l'ha visto sto fallo Ma dove l'ha visto sto fallo Utaka 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 Riparte lui Utaka 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 L'uomo delle imprese impossibili L'uomo delle imprese impossibili L'uomo anche dai dribbling impossibili Ma porca miseria Ma porca di una miseria Un orgasmo Un orgasmo Per Rossetti Rossetti si ferma Rossetti si ferma Che vede un orgasmo Ancora Rossetti Ma voci Voci Rossetti Voci Voci Sì Qui dormiamo Non ci posso rire Abbiamo perso contro il Newberg Il Newberg Signore Abbiamo perso contro il Newberg C'è da vergognarsi C'è da vergognarsi C'è da mitaro C'è da mitaro C'è da mitaro All'ottantottesimo C'è da mitaro No Ma che stai scherzando È finita Ma mandatemi tutte a quel paese Dai Non ci posso credere Non ci posso credere Guarda che cazzola di coli Che abbiamo preso Guarda che cazzola di coli Che ho preso E noi siamo stati Uno sfortunato Abbiamo preso una traversa Noi signori Ma porca miseria Ma porca Ma porca Di quella paletta Veramente Dai però Non prendiamo punti Questi salgono Cosa ci salgono a fare Se fanno schifo Del tongo Ceramitaro Gambardoni Uno orgas Migliora Ma veramente Complimenti Uno orgas Utaka Non c'ha voglia Rossetti 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 Mia Ma che cazzola Stai aumentando a fare Che fai proprio pena Fai proprio pena Rossetti Mia Va bene Però bisogna dare fiducia Signori Bisogna dare fiducia Bisogna dare fiducia Ecco Infatti Posizione Cambionato Master Siamo sempre Secondi Ok Manteniamo un punto Di vantaggio Di vantaggio Sul ren Quindi una sconfitta Che non ci ha fatto Più di tanto Dolore Però non va bene Così signori Abbiamo preso Nel Nuremberg Che era quinta In classifica Direi anche Porca di una paletta Ambriaca Detto questo signori Io vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio Per i like Per i commenti Per i studenti E per il supporto Vi ricordo sempre Di iscrivervi al canale Noi ci vediamo Sempre qui Sempre sul canale Per un prossimo Appuntamento Bella raga Ciao Ciao